I ritardi nel mancato rinnovo di una parte dell'autorizzazione unica ambientale rischiano di far chiudere i battenti allo stabilimento meridionale Alimenti della Valle del Sabato, già finito all'attenzione della magistratura per sversamenti illeciti. Per scongiurare la perdita di 75 posti di lavoro, questa mattina sindacati, azienda, confindustria, province ed enti preposti a rilasciare l'autorizzazione si sono ritrovati in prefettura. L'autorizzazione scade il prossimo 9 dicembre. I tempi per il rinnovo sulla carta sono lunghi. Al tavolo è emersa la possibilità, stabilita dal Tribunale nel provvedimento di sequestro preventivo, di continuare a lavorare in attesa che l'azienda si metta in regola. La provincia, ente preposto a rilasciare l'autorizzazione unica ambientale, ha promesso di accelerare e di convocare già nei prossimi giorni una conferenza dei servizi. Noi come organizzazione sindacale abbiamo dimostrato le nostre preoccupazioni perché l'azienda potesse continuare, soprattutto in questo periodo di feste natalizie quando le commesse sono molto alte, bloccare ora l'azienda significherebbe arrestare quel processo produttivo e quei volumi produttivi dove l'azienda in questo periodo dell'anno lavora molto di più. E' chiaro che ci sono delle autorizzazioni che non sono a posto. L'Asi, l'Alto Calore ha dato la massima disponibilità, così come anche la provincia, ad organizzare una conferenza di servizi per completare tutte le autorizzazioni necessarie per poter far continuare a sversare anche le prime piogge e le acque di lavorazione nelle varie fogne che stanno nella zona industriale di Piano Tardine. Il problema si inserisce in una più ampia vertenza che è quella della Valle del Sabato e le problematiche ambientali. Il sindacato con chi sta? Il sindacato innanzitutto diciamo che l'articolo 32 della Costituzione garantisce la salute a tutti i cittadini. Però con questo non dobbiamo sempre trasformare ogni piccola cosa in gigantilla e poi alla fine chi è penalizzato sono i lavoratori. Per carità, ripeto, noi stiamo con i lavoratori, noi facciamo sindacati, però nel rispetto delle leggi e della Costituzione che garantisce la salute a tutti.